La Roma non è una grande squadra, no? Su questo credo che anche prima della partita si poteva dire giusto. Poi senza Smalling, Di Bala, Lukaku, Pellegrini, Renato Sanchez, Spinazzola. Poi diventa proprio difficile vincere una partita perché io voglio levare sei titolari così a tutte le squadre e io credo che nessuna ci riesca ad essere fra le prime tre e quattro. E poi giustamente ci può stare anche chi dice ma la colpa non può essere anche di Murigno. Secondo me no, perché levare quei 6-7 giocatori dalla squadra, secondo me, puoi essere Murigno, puoi essere chi ti pare, Ancelotti, non puoi andare da nessuna parte con una squadra così. L'unica perplessità è che Murigno apre anche una squadra senza campioni, però a me non mi serve vedere. Dico la verità, io non sto con Murigno e i giovani, non mi interessa proprio. Allora, io sto con Murigno e non voglio disattendere quello che ho detto io. Ma no, io Murigno lo voglio per vince, non per i giovani. Pellegrini non può più, chi batte sul fatto che prende un sacco di soldi, a me interessa poco perché quello di ridanno io mi prendo, ma qual è il problema? Io parlo di lui proprio come giocatore, non prende una palla e anche ieri stava sempre per terra, è imbarazzante. Ieri quando è uscito Renato Sanchez è uscito anche Diacopinto, spero, dalla Roma. Mi sembra abbastanza evidente il fatto di aver punito più Diacopinto che il ragazzo, tanto il ragazzo non gioca più a calcio ormai.